Grande soddisfazione per il Comitato Lega Nazionale Direttanti di Caltanissetta guidato da Giorgio Vitale per il varo del calendario di terza categoria che quest'anno vede in asti di partenza 12 formazioni. Ecco di seguito la prima giornata in programma domenica 27 ottobre alle ore 14.30. Buterese Acquaviva, Delia Bonpensiere, Marianopoli Tre Torri Cambobbello, Montedoro Riesi 2002, Polisportiva Saraceno San Giovanni Bosco Caterinese, Sutera Real Suttano.